Amici sportivi appassionati di calcio a 5, la buona serata da Fabrizio Agostini ed Emanuele Barzi. Benvenuti al Pala Bianchini di Latina, quattordicesima giornata del campionato di Serie A 1 di calcio a 5. Questa sera sul parquet del Nicola Bianchini si sfidano l'Axed Group Latina e la Lallo Caffè Napoli. Si riparte da Chinchio, lungo per Maina che prova a liberarsi della marcatura. Maina si gira, viene attaccato da De Luca ma non c'è fallo, arriva la parata. Poi Battistoni, pressato anche lui, gran pressing da parte del Napoli che ha i suoi frutti e arriva il primo tiro, deviazione provvidenziale. Maina cambia lato, Battistoni. Battistoni punta a crema, va dentro Battistoni, Battistoni che gol! Gerardo Battistoni è andato via! Manfroy ha messo il pallone a giro sul secondo palo, 1-0 Lottina. Non fare punto a Bernardes, Manfroy, finta di Manfroy, poi ritorna il sinistro, non va lontano dal palo. E il tiro all'improvviso di De Bail. Pedotti, pallone per Manfroy, cerca lo spazio, il destro di Manfroy, gol di Manfroy. 1-1, ha pareggiato la Lollo Caffè Napoli. Pedotti, Napoli che ha preso coraggio, André Chinchio risponde presente. Poi si accentra Battistoni. Trova il tiro, l'area spinta di Leandro Battistoni dentro per Amoedo. Amoedo prove con Battistoni ancora sotto misura, doppio intervento di Leandro. Bernardes, Bernardes va via Bernardes, mette dentro, pallone in rete, si insacca! Il pallone di Hugo Bernardes, torna avanti Latina. Prova per Terenzi, stoppa il pallone Terenzi. Palleggio di Terenzi, gran numero di Terenzi, e pallone in rete! Ma cosa ha fatto Andrea Terenzi? Mezzo gol è suo, straordinario! Manfroy, Manfroy, prova ancora lui, palla sul palo, occasionissima! Prova a rubare palla Latina, ci riesce, Corso, Corso, prova il tiro, palla alta. Leandro, pallone per De Bail, Pchinchio! Trova ad andare via Manfroy, marcia a Pchinchio! Pallone per Leandro, Pchinchio, l'area spinta e poi spazza via Corso. Gira palla, squadra a parte enopea, Crema, punta Battistoni, Crema, Crema rientra, ancora Crema, al destro, palla in rete, palla che si inzacca, 3-2, Avellino, dentro per Battistoni, palla in rete! Rimette subito due gol di vantaggio Latina, sotto misura, Battistoni! Secondo fallo di squadra per Napoli Calcio a 5, Maina, appoggia Avellino, palla in rete! Sotto la traversa, Lucio Avellino, cala la cinquina Latina, Avellino, Bernardes, ancora Avellino, Avellino, Leandro, con i piedi! Cambia gioco, botta, botta, dentro, Corso, salva tutto! Pallone recuperato da André, contropiede, tutto solo Crema, Pchinchio, che parata! Crema, Crema per De Bail, poi allarga Manfroi, Manfroi che prova il tiro, Manfroi! Fa centro Manfroi, 5-3, Manfroi, Crema, Crema, ci prova lui, Crema, Kinchio! De Bail, pallone per Crema, tiro respinto, poi Manfroi, Manfroi, Kinchio! Battistoni, al volo, Leandro, Avellino scivola, ancora Battistoni, Kinchio! Per Maida, Battistoni, sinistro, palla in rete! Gerardo Battistoni, cala il suo tris personale, diagonale chirurgico, 6-3! Poi Crema, gira De Luca, c'è Avellino, Avellino, prova lui e palla di nuova in rete! Rischia tanto Napoli, e stavolta ha pagato, con il gol di Avellino! Ancora Manfroi, gira per De Bail, libero De Bail, mette dentro e Andrè, accorcia Andrè! 7-4, Manfroi, De Bail, prova il tiro, palla che sibila il palo! Avellino, per Maina, poi fa continuare Avellino, Avellino mette dentro, pallone che rimane lì, Avellino lascia Terenzi, Maina e palla sull'esterno della rete! Latina ha avuto una grande chance! Intanto Battistoni, il tiro deviato, Crema, Kinchio, mette in calcio d'angolo, pallone dentro, Amoedo, Battistoni si gira e mette dentro! Chiude così, con una girata mancina favolosa! Gerardo Battistoni, 8-4! La Sirena, il fischio finale, che arriva in questo momento, Latina 8, Napoli 4!